No Eleonore, grazie davvero di qua da te, davvero. Lo dico con tutto il cuore, grazie, grazie per tutto quello che fai per i tuoi assistiti. Grazie. Sei una persona fantastica, Ele, e di più. Non... sei bravissima nel tuo lavoro, e ce ne sono pochi, pochi, pochi. A fine agosto farò una stesa per me. E poi farò un lavoro per eliminarlo definitivamente dalla mia mente. Io non so come ringraziarti di tutto, ma davvero. Grazie davvero di qua. Grazie a tutti.